Musica Dall'Uganda il messaggio del Papa all'Africa, non dimenticatevi dei poveri, domani l'arrivo in Repubblica Centrafricana. La giornata di Francesco, incentrata sui martiri ugandesi, non dà gioia il potere terreno, ha detto, ma la fedeltà a Dio. Il Consiglio di Chiavari ha votato l'assestamento di bilancio, a fine anno andranno a gara diversi progetti per oltre 3 milioni di euro. Si complica la partita legata al bilancio di ATP, non piacciono ai sindacati le misure prospettate dall'azienda per sopperire ai tagli delle istituzioni. Chiavari dice di no alla pena di morte, adesione alla campagna Città per la Vita della comunità di Sant'Egidio. Serie B, riscatto della Virtus Entella Modena sul campo che sancì la retrocessione in Lega Pro, i Bianco Celesti oggi hanno vinto 1-0. Al via la stagione lirica del teatro cantero di Chiavari, portata in scena Lucia Di Lammermur di Gaetano Donizzetti. La rubrica Paese mio, questa settimana la scoperta delle frazioni di Cassanesi e Pian dei Preti nel comune di Tribogna. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio Oggi. Prosegue la visita del Papa in Africa. Francesco in queste ore sta visitando l'Uganda tra i momenti del pomeriggio. A Campala il Pontefice ha incontrato i giovani ugandesi. È stato un momento di grande intensità emotiva. Subito le immagini. Il Papa ha preferito parlare a braccio sino a dialogare con i ragazzi piuttosto che leggere il testo preparato. Al centro il tema della sofferenza che viene trasformata in speranza dalla fede di Gesù. Francesco ha dunque invitato i giovani ad essere forti, ad affidarsi a Gesù così da trasformare il male in bene. Il Papa si è poi recato alla Casa di Carità di Naluco Longo dove vengono accolti e assistiti un centinaio di poveri di ogni religione ed età. Qui, ha detto il Papa, si sente la presenza di Gesù perché lui è sempre dove sono i poveri, gli ammalati, i carcerati, i diseredati, quelli che soffrono. Da questa casa il Pontefice ha lanciato un appello a tutte le parrocchie e alle comunità presenti in Uganda e nel resto dell'Africa a non dimenticare i poveri. E infine l'incontro con il clero. Preti, religiosi e suore non possono condurre una doppia vita. Ha detto Francesco, se sono peccatori chiedano perdono ma non tengano nascosto ciò che Dio non vuole, ossia la mancanza di fedelità e di memoria. La preghiera, ha spiegato ancora il Papa, inizia sempre con il riconoscersi peccatori. Con queste tre colonne, ha concluso il Pontefice, la perla dell'Africa continuerà ad essere perla e non solo una parola del dizionario. E questa mattina il Santo Padre al Santuario di Namugongo ha celebrato la messa commemorativa di San Carlo Luanga e i compagni martiri a 50 anni dalla loro canonizzazione. Il servizio di Alberto Viazzi. La giornata del Papa a Campala, incentrata sul ricordo dei martiri, è iniziata con la visita prima al Santuario Anglicano, poi a quello cattolico, loro dedicati. Nella prima tappa ha svelato una targa commemorativa dei 23 martiri anglicani torturati e uccisi alla fine dell'Ottocento. Nella seconda ha ricordato San Carlo Luanga, bruciato insieme ai suoi 21 giovani compagni il 3 giugno 1886, che al cospetto del re Muanda non nascosero la loro fede nel vero re, Gesù Cristo. La libera testimonianza di questi martiri, ha detto poi il Papa nell'Omelia, ha raggiunto gli estremi confini della terra e invita i fedeli di oggi a portare Cristo nelle case, sui posti di lavoro e nella società civile. La testimonianza dei martiri mostra come i piaceri mondani o il potere terreno non danno gioia. La fedeltà a Dio, l'onestà, l'integrità della vita e la genuina preoccupazione per il bene degli altri ci portano con la pace che il mondo non può offrire. Ciò non diminuisce la nostra cura per questo mondo, ha concluso il Papa. Il Papa, al contrario, porta a raggiungere i bisognosi e a costruire una società più giusta, che promuova la dignità umana, che difenda la vita a dono di Dio e che protegga le meraviglie della natura, il creato, la nostra casa comune. E domani il Papa visiterà la Repubblica Centrafricana. Tra poco vedremo anche gli orari delle nostre dirette. Ascoltiamo ora Monsignor Armando Gianni, Vescovo italiano di Buar, sulla situazione della famiglia Repubblica Centrafricana. Qui in Repubblica Centrafricana abbiamo sentito che è difficile per ora formare delle famiglie secondo gli insegnamenti del Vangelo. Come state lavorando con le famiglie? Noi cerchiamo di proteggere la famiglia tradizionale che possa diventare cristiana, cioè vivere pienamente i suoi diritti. Il Papa, proprio nell'incontro che abbiamo avuto con lui, stati attenti alle colonizzazioni ideologiche dell'Europa e dell'America. Qui si porta un aiuto materiale condizionato all'accettazione di certe pratiche che sono o aborti o praticamente contro leggi etiche. Allora, il debattito attuale su da voi è degenerato in altre cose, dove i Vescovi africani hanno detto chiaramente che per ora noi qui abbiamo altre priorità, cioè che la famiglia naturale sia protetta giustamente da questa invasione ideologica di altri continenti, dall'altra far crescere questa famiglia, far conoscere almeno il progetto di Gesù, della famiglia, in modo che possano anche loro usufruirne. Vediamo allora gli orari delle dirette di domani. A partire dalle 6.55 trasmetteremo la cerimonia di congedo dall'aeroporto di Entebbe in Uganda. A questo punto il Papa volerà alla volta della Repubblica Centrafricana. Qui alle 11.55 Francesco visiterà il campo profughi in capitale a Bangui. Alle 16.40 presiderà la Santa Messa con sacerdoti, religiosi, religiose, catechisti e giovani nella cattedrale. Alle 18.45 la confessione di alcuni giovani e l'avvio della veglia di preghiera sulla spianata davanti al cattedrale. Tutti questi momenti in diretta su Telepace 1 al canale 15. E i centrafricani della zona di Buar potranno seguire in diretta a loro volta la visita di Papa Francesco al loro paese grazie a Tele Siriri, il canale televisivo acceso in agosto dal nostro direttore Don Fausto Brioni nei locali di radio Siriri, la gemella della nostra emittente in Repubblica Centrafricana. Il segnale della TV si irradia dal colle di San Loran a Buar e copre un territorio di 100 km2 di raggio. Come in Italia negli anni 50 e 60 molti centrafricani si stanno attrezzando per assistere alla diretta dai televisori in possesso dei centri pastorali o delle missioni. Tele Siriri inoltre per la prima volta organizzerà un vero e proprio servizio in esterna. L'emittente infatti avrà a Bangui una troupe formata da quattro giornalisti guidati dal direttore padre Toussaint Zumalde. Vediamo ora le notizie del nostro territorio. Cominciamo parlando del Consiglio Comunale di Chiaveri che si è svolto questa mattina. Sono state approvate due pratiche importanti. L'assestamento di bilancio e il via libera al cambio della cartellonistica in tutta la città. Il servizio. Sbloccato in extremis il patto di stabilità, il Comune di Chiaveri chiude l'anno mettendo mano all'avanzo di bilancio. In pochi giorni la Giunta ha recuperato alcuni progetti pronti che andranno a gara entro fine 2015 per una spesa di oltre 3 milioni di euro. Necessario l'assestamento di bilancio approvato stamane in Consiglio. La strada ad esempio di Rì, di collegamento tra l'asilo e i viogolini. Sono la passeggiata a mare, tutta la parte in legno che è veramente disastrata. E' completamente a marcia, quindi andremo a posare della nuova arenaria. Le finiture del Palazzo di Giustizia sono circa 600 mila euro. 200 mila euro per l'illuminazione di caperane e di ribasso, che c'è una parte davvero che i pali sono proprio messi in messi male. Poi ci sono 150 mila euro per poter riaprire Palazzo Rocca, perché l'adeguamento del sistema antincendio e impianto elettrico. 250-260 mila euro per quanto riguarda la piazza Madonna dell'Orto, dove metteremo dei basoli come sono in tutte le piazze della città. Quindi questo è un primo, chiamiamolo primo lotto, cioè una prima parte, che faremo sia la parte davanti al prono che il collegamento tra via della Cittadella fino a via Medaglie d'Oro. Quindi si sarà tracciato in basoli. Poi ci saranno circa 800 mila euro di asfalti. I lavori inizieranno a marzo e dovranno terminare entro la fine del 2016. Alcuni fondi saranno usati per le progettazioni di Palazzo Rocca e del nuovo ponte di San Pier di Canne. 200 mila euro poi sono stati sbloccati per rifare alcuni marciapiedi. C'è un'ultima novità che riguarda cartelli, pubblicità, indicazioni stradali. Il Comune cambia la cartellonistica. Il Consiglio stamattina ha approvato la pratica. Certamente è una cosa molto importante, ritengo, perché proprio davvero sono cambiate anche le norme del codice della strada. Quindi vanno anche adegate in questo senso, oltre che, ho detto prima, al riordino che sicuramente va fatto. Certe sono arrugginite, è proprio una cosa molto disordinata che andava fatta e purtroppo sono più di dieci anni che nessuno ci ha messo a mano. Si complica la partita legata al futuro dell'ATP per l'azienda, i cui lavoratori scenderanno in sciopero martedì prossimo. Si deve chiudere il capitolo del bilancio 2016. Mancano all'appello ancora delle risorse da parte delle istituzioni, ma ai sindacati non piacciono i provvedimenti prospettati dalla società. Sentiamo. Acque ancora agitate in ATP. Per l'azienda Trasporti Provinciale si apre un mese cruciale, durante il quale, contestualmente alla chiusura del concordato preventivo a fine 2015, si deve anche chiudere la partita del bilancio 2016, per il quale mancano all'appello ancora risorse che evitino il rosso e l'inevitabile fallimento. In attesa di avere risposte dalle istituzioni, la società ha già indicato ai sindacati le leve sulle quali agire per far quadrare i conti. Riduzione della validità temporale del biglietto da 100 a 85 minuti, l'esternalizzazione e la riduzione dei chilometri di servizio, l'aumento del costo del biglietto per la linea costiera da 3,60 a 5 euro e la rinuncia da parte dei lavoratori all'integrativo, circa il 30% del salario. E proprio su quest'ultimo punto, già applicato da due anni all'interno del piano concordatario, si fa incandescente il confronto con le sigle sindacali, che confermano lo sciopero di 24 ore proclamato per martedì 1 dicembre. La terza astensione del lavoro in poche settimane, per denunciare una situazione paradossale. Per rimediare l'ennesimo buco aperto dalla città metropolitana, incapace di garantire il proprio contributo di 1 milione e 400 mila euro, scrivono i sindacati in una nota, si penalizzano ancora una volta i lavoratori e l'utenza. E' evidente, si conclude, che ad oggi manca la volontà politica di giungere ad una soluzione strutturale che salva guardi e dia un futuro ai lavoratori di un'azienda che è e deve restare un patrimonio pubblico. E sul capitolo risorse non si sbilancia la Regione Liguria, che comunque conferma il suo impegno per tutto il settore. La Regione dice che, siccome le sta a cuore il trasporto dei propri concittadini e dei propri corregionali, ha mantenuto inalterate le risorse rispetto al 2015, nonostante fossero prevedibili tagli, visto il momento di crisi. Ma per non mettere in crisi noi come Regione il sistema, abbiamo mantenuto, ripeto, inalterate le risorse per quanto riguarda il trasporto pubblico e anche per quanto riguarda ATP. Questo è poco ma sicuro, spero che anche gli altri facciano la loro parte. Oggi in tutta Italia si è svolta la colletta alimentari, numerosi volontari in campo, in molti supermercati, anche nel Tiguglio. Siamo andati a vedere nel quartiere di San Pierdicane. Chi viene a comprare al supermercato che cosa deve fare? Chi viene a comprare al supermercato, se può, deve cercare di donare, noi chiediamo poco, anche una piccola cosa, anche una scatoletta di tonno, di legumi, di biscotti, deve cercare di comprare qualcosa che poi consegna a noi e che poi noi consegniamo alla sede centrale del Banco Alimentare della Liguria, che è nel nostro caso a Bolzaneto, e poi viene distribuita a varie associazioni sul territorio che poi a loro volta la distribuiscono alle persone bisognose. Alcune scatole le avete già chiuse. Le persone che cosa donano in maggior parte? In maggior parte donano riso, biscotti, olio e poi ci sono anche quelli che fanno una spesa varia perché fanno la spesa immaginando quello che vogliono loro, quello che piace a loro e quindi ci regalano anche cioccolatini e cose varie. Qual è l'andamento della donazione oggi rispetto alla crisi? Che idea vi siete fatti? Cosa vedete? Allora, i ragazzi del nostro comprensivo hanno fatto la proposta a molti anziani e hanno notato che soprattutto loro, i pensionati, dicono che quest'anno hanno molte tasse e che non possono quindi donare e che avrebbero bisogno loro. Poi qualcosina donano lo stesso, però fanno fatica. Lei ha citato i ragazzi del comprensivo Chiaveri 2 perché vi stanno dando una mano in questa attività. Come li avete coinvolti? Sì, noi abbiamo fatto vari progetti all'interno del POF. Uno di questi comprende non solo questa raccolta del Banco Alimentare ma anche altre iniziative proprio sulla solidarietà. I ragazzi hanno un diritto molto volentieri e imparano un po' anche a convivere con la realtà. La città di Chiaveri ha aderito alla campagna della comunità di Sant'Egidio, città per la vita contro la pena di morte in vista della giornata mondiale di lunedì 30 novembre. In Comune si è tenuta la firma del documento alla presenza delle autorità. In tutto il mondo viene celebrata in oltre 1600 città tra le quali si contano più di 70 capitali. La giornata internazionale di Cities for Life, città per la vita, città contro la pena di morte, lunedì verrà ricordata anche a Chiaveri con la fontana di Piazza Matteotti che resterà colorata di blu per tutto il giorno. Con l'adesione del Comune all'iniziativa promossa dal 2002 della comunità di Sant'Egidio, l'amministrazione ha voluto dare un segnale forte in merito ad un tema oggi quanto mai attuale. La vita ce l'ha data il Signore e nessuno potrà mai togliercela, sebbene debbano esistere pene severe, anzi severissime, per chi commette dei gravi reati. Su questo non ci può essere dubbio. Quindi noi, d'accordo con la comunità di Sant'Egidio che fa questa iniziativa un po' in tutta Italia, faremo sì che il giorno del 30 novembre la fontana di Piazza Matteotti, ben visibile a tutti perché lì passano tantissima gente, sarà colorata di blu. La data del 30 novembre è stata scelta perché ricorda la prima abolizione della pena capitale, quella del Gran Ducato di Toscana, avvenuta il 30 novembre del 1686. Nel mondo, ancora oggi, però, la pena di morte viene applicata a partire proprio dagli Stati Uniti d'America, anche se l'impegno di questi anni della comunità di Sant'Egidio nel contrastarla ha dato i suoi risultati. Alcuni stati degli Stati Uniti continuano ad avere nel loro ordinamento la pena di morte, però forse noi speriamo in grandi risultati del discorso che ha fatto Papa Francesco al Congresso degli Stati Uniti, in cui ha esortato in maniera molto semplice e chiara come nel suo stile, a puntare l'impegno nel recupero delle persone che hanno commesso dei reati e non passare attraverso questa idea della vendetta che in realtà non costruisce niente per la società. I carabinieri di Lavagna hanno denunciato per percosse ingiurie un 78enne e una 71enne. La coppia, originaria di Parma, lo scorso settembre, aveva offeso e percosso due donne a seguito di un incidente stradale. Queste ultime è una quarantenne di Moneglia e una straniera di 32 anni hanno sporto denuncia e al termine delle indagini è scattato il deferimento da parte dei carabinieri. Una visita semplice, vissuta in un clima familiare. Questa mattina il Vescovo ha incontrato i detenuti nel carcere di Chiavari. La struttura, come sapete, è stata interessata nei mesi scorsi da lavori di ristrutturazione. Monsignor Tanasini ha benedetto i nuovi spazi, le celle, ma soprattutto i carcerati. Ha spiegato loro che sono cristiani, come gli altri, e dunque appartengono alla chiesa locale, non sono esclusi dalla comunità chiavarese. Dopodiché nel corridoio centrale è stata collocata un'icona di Nostra Signora dell'Orto. Al momento erano presenti anche il cappellano, Don Franco Brioni, alcuni volontari, la direttrice del carcere e i poliziotti in servizio. Infine il Vescovo si è congedato con un arrivederci. Infatti il prossimo 22 dicembre Monsignor Tanasini celebrerà in carcere la messa di Natale. Apriamo ora la pagina culturale. Con la rappresentazione della Lucia di Lammermur di Gaetano Donizzetti si è aperta la stagione lirica 2015-2016 del Teatro Cantero di Chiavari. Il servizio. Con una scelta coraggiosa e lodevole è stata portata sul palco del Teatro Cantero di Chiavari un'opera di Donizzetti molto bella musicalmente ma sconosciuta al grande pubblico. La Lucia di Lammermur eseguita dall'Orchestra Cantieri d'Arte di Reggio Emilia diretta da Stefano Giaroli. Quali sono a suo avviso le caratteristiche principali sotto il profilo musicale di quest'opera di Donizzetti? C'è una scrittura orchestrale molto piena quindi che alterna pagine veramente di impatto a pagine assolutamente rare fatte di una delicatezza unica e quindi c'è questo contrasto continuo sottolineato anche dalla presenza in scena o meno del coro. Com'è andata in questa occasione? È andata molto bene nella prima volta che noi cantavamo quest'opera è un'opera che apre le porte in qualche modo alla grande coralità di Verdi dove il coro è sia testimone sia attore delle vicende che si narrano. È una partitura non molto impegnativa però molto articolata con grandi effetti ed espressioni. Sul palcoscenico protagonista assoluta è stata Linda Campanella che ha interpretato Lucia accompagnata dal giovanissimo tenore Rino Matafu all'esordio nel ruolo di Edgardo. Lucia possiamo considerarlo un personaggio positivo? Molto, moltissima. È una delle eroine delle opere dell'Ottocento del romanticismo è un personaggio meraviglioso pieno di risorse e di sfaccettature veramente un personaggio notevole. Nel 140esimo anniversario della fondazione l'Istituto Assarotti per Sordomuti di Chiavari invita tutti al teatro cantero per assistere alla pièce teatrale Figli di un Dio minore martedì 1 dicembre vediamo di cosa si tratta. Arriva al teatro cantero Figli di un Dio minore uno spettacolo che tratta di cosa? Figli di un Dio minore è una commedia che verrà rappresentata il primo di dicembre presso il teatro cantero da una compagnia di levatura nazionale commedia che forse è molto più conosciuta per il film anni 80 con protagonista William Hart commedia che è molto pertinente con le finalità dell'Istituto Assarotti perché riguarda la comunicazione tra il mondo dei sordi e il mondo degli udenti due mondi distanti che non si conoscono e che dunque attraverso questa rappresentazione entrano in contatto e con spunti di emozione danno vita a questa rappresentazione teatrale. Una riflessione anche sulla sordità e sul rapporto comunicativo tra queste persone? Ovviamente ovviamente perché la fondazione presso quale io presto servizio ha come finalità appunto la sordità, la tutela l'aiuto delle persone sorde quindi è un anno speciale questo? Difatti, in occasione del nostro 140esimo anniversario è organizzata questa rappresentazione proprio per sensibilizzare noi tutti verso il problema della sordità e tutte le sue sfaccettature. Allora, primo dicembre Teatro Cantero, ore 21 la prevendita è già aperta? La prevendita è già aperta presso il Teatro Cantero o anche attraverso la fondazione Assarotti in Corso Millo posti sia a platea la seconda parte della platea leggermente inferiore come tariffa Gallerie Logione Siamo agli appuntamenti per domani intanto in piazza i pandorini per i reparti di pediatria degli ospedali italiani domani domenica 29 novembre i soci del Leo Club Chiavari Sestri Levante associazione giovanile dei Lions Club International saranno presenti in piazza Matteotti a Chiavari dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 per Neofol Cildre una piccola offerta sarà possibile sostenere il progetto e portare con sé un gustoso pandorino con gocce di cioccolato e si potrà così sostenere questo progetto che sostiene i reparti di pediatria e neonatologia degli ospedali italiani Ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace per vedere tutti gli altri appuntamenti in programma per domani domani sarà domenica 29 novembre torna al mercatino dei sapori e delle tradizioni a Chiavari dalle 9 alle 19 in via Rivarola ci si potrà addentrare tra le bancarelle della mostra a mercato alla ricerca di prodotti enogastronomici e della cultura italiana mercatino pane e olio a Sestri Levante gli stand saranno posizionati in piazza Bo e in via Asilo Maria Teresa dalle 9 alle 20 escursione sul sentiero dei Tubi nel parco di Portofino un'occasione per riscoprire l'antico tracciato dell'acquedotto il ritrovo alle 9 davanti alla chiesa di San Rocco di Camogli la gita terminerà alle 13 in località Caselle mostra dal titolo Don Quixote visto dagli artisti del Tiguglio a Santa Margherita Ligure l'esposizione rimarrà aperta in via dell'arco ancora per la giornata di domani dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30 alle 12.30 pranzo dello Stoccafisso nella chiesa di Sant'Eufemiano in Graveglia a Carasco il ricavato sarà interamente devoluto per i lavori della Canonica e infine terzo appuntamento per la settima edizione di Pieve Classica a partire dalle 17 nel teatro Massone di Pieve Alta si esibiranno Mattia Cigalini al sax alto e Andrea Pozza al pianoforte La Croce Verde Chiavarese compie 110 anni in occasione dell'anniversario di fondazione domani alle 12 in piazza Matteotti si svolgerà la cerimonia di inaugurazione e la benedizione di una nuova automedica Skoda Octavia 4x4 donata da Angelo Marconi in ricordo del nipote Ernesto la cerimonia sarà preceduta alle 9.30 dalla deposizione di una corona commemorativa per i soci e i volontari defunti sepolti nel cimitero cittadino e alle 10 dalla celebrazione della messa nella cattedrale di N.S.S. in memoria dei soci fondatori celebrazione che sarà presieduta da prete Rinaldo Rocca siamo ora al calcio parliamo della serie B la Virtus Centella oggi ha vinto 1-0 in casa del Modena bianco celesti padroni del campo nel primo tempo con diverse palle gol non concretizzate nella ripresa padroni di casa più reattivi tuttavia sono proprio i chiavarese a passare in vantaggio al 78esimo con Francesco Caputo vedete le immagini che ha messo in rete un cross di Costa Ferreira poi appoggiato da Cutolo ottimo Iacubucci nel finale di gara capace di bloccare alcuni tiri pericolosi del Modena per l'Entella si tratta di un successo importante intanto perché ha trovato il riscatto a Modena sul campo dove lo scorso anno ha sancito la retrocessione in Lega Pro dei bianco celesti ma quest'anno un risultato importante anche perché piazza la squadra in zona playoff insieme a Livorno e a Perugia a 21 punti per i ragazzi di Mister Aglietti si tratta del decimo risultato utile consecutivo e siamo ora alla nostra programmazione domani torna l'appuntamento con la rubrica Paese Mio questa settimana ci porterà alla scoperta dell'Alta Val Fontana Buona in particolare delle frazioni di Cassanesi e Pian dei Preti nel comune di Tribogna ne vediamo un'anticipazione cari amici di Paese Mio oggi siamo tornati nel comune di Tribogna andiamo a visitare due frazioni di questa località dell'Alta Fontana Buona partiamo da Pian dei Preti e poi andremo a visitare anche la realtà di Cassanesi com'è questa piccola comunità? non siamo tantissimi però ci si conosce tutti il posto è comunque tranquillo non è troppo distante dalla città da Genova io faccio il pendolare tutti i giorni quindi però è un posto dove si sta molto volentieri c'è una buona collaborazione con il parroco anche se queste zone non sono particolarmente abitate? beh sì io sono fortunato devo dire trovo tutto pronto quando arrivo nelle chiese la gente poi anche dei problemi di trasporto quindi anche autisti d'altra parte non potremmo gestire più di una chiesa se non ci fosse collaborazione con i laici con le persone poi che fabbriceri che pulisce la chiesa che apre che chiude sono compiti semplici ma sono compiti indispensabili utilissimi se non ci fossero queste persone beh non 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 fare chiaramente niente abbiamo raggiunto il centro diciamo così del paese di Cassanesi attraversando una stradina che ha una storia importante certo è una storia che parte dal alto medioevo è l'unica strada che c'era sino agli anni 50 60 e immaginate quei boschi la raccolta del fieno e le persone che dovevano attraversare con la legna col fieno con tutto ciò che avevano sulle spalle attraverso questo piccolo via vicolo l'appuntamento con paese mio è domani pomeriggio alle ore 17 su telepace 2 al canale 85 e in replica martedì sera alle 21 e 40 e lunedì riparte la nuova stagione del buon pomeriggio di telepace tutti i giorni dal lunedì al venerdì in diretta dalle 14.30 alle 16 avremo ospiti collegamenti aggiornamenti in tempo reale su eventi in corso nel territorio del Tiguglio e non solo alla sua seconda edizione la trasmissione si caratterizza per la varietà degli argomenti trattati e per la finestra aperta sul territorio con possibilità di collegamenti in esterna il debutto allora lunedì prossimo 30 novembre a partire dalle 14.30 questa notizia si conclude il nostro telegiornale continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com grazie per l'attenzione buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti arrivederci a tutti